Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video del Gobbo Toscano, attenzione, affumicatura in atto, affumicatura in atto. Allora, in questo video parleremo di un argomento particolare che sono alcuni rinnovi di calciatori della Juventus, in più con uno sguardo sul calciomercato invernale e poi vi voglio dire un paio di cosine all'inizio del video e poi farò un video a parte che specificherò tale argomento. Allora, se i contenuti del Gobbo Toscano vi piacciono iscrivetevi, altrimenti disiscrivetevi. Se il Gobbo Toscano vi piace lasciate un like al contenuto oppure se non vi piace uscite dal video, lasciate un dislike. Mettete un commento positivo se vi è piaciuto, mettete uno negativo se non vi è piaciuto, mettete un commento di discussione costruttiva se trovate l'argomento, trovate una chiave di lettura diversa da quella che vi do io. Quindi cercate di interagire, se non vi interessa ovviamente non abbiamo bisogno delle vostre interazioni quindi se non vi interessa cambiate canale e andate a iscrivervi a un altro perché tanto vedo che ultimamente i contenuti beceri sono quelli che vanno per la maggiore e ovviamente quando si guarda solo al portafoglio, ahimè io ho una morale, una piccola morale credo che sì, ovviamente ho bisogno anch'io, mi fa piacere guadagnare con YouTube ma non mi vendo cambiando la persona che sono. Questa è una premessa che voglio farvi perché se vi aspettate puttanate su questo canale non ne troverete mai. Detto questo vi ripeto sempre che se vi piace lasciate like e iscrivetevi al canale ma parliamo subito di una cosa importante, Fagioli rinnova, Fagioli rinnova fino al 2028 Giuntoli usa parole importanti verso il calciatore che al momento è squalificato per la vicenda calcio scommesse e il rinnovo è stato fatto a una base fissa di circa 1,5 milioni di euro l'anno e rispetto a quello che era prima c'è un adeguamento perché gli hanno aumentato un ritocco dell'ingaggio hanno aumentato di circa 500 mila euro perché non arrivava al milione mi pare sui 900 mila euro l'anno era di Fagioli fino al 2028 quindi Fagioli confermato ed aggiuntoli viene detto come un giocatore fondamentale per la Juventus del futuro e quindi aspettiamo il ragazzo e gli siamo vicini io su questo potrei dire determinate cose pro che dico mi fa piacere a livello umano ma contro a livello di società tenere un calciatore e rinnovarlo anche aumentandogli le cifre dopo quello che è successo non lo so, non lo so, ditemi la vostra, ditemi la vostra allora sembra quasi un premio per aver scommesso comunque altro argomento caldo 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 Pogba stiamo lavorando ad un appello riporta Raffaella Pimenta e dice praticamente tramite avvocati stanno lavorando ad un appello dice che comunque Pogba è maturato molto eccetera eccetera fa un escurso sulla vita di Pogba che ha tre figli ma a noi non interessa ci interessa il discorso e verrà fatto un appello ma le chance che qualcosa di meglio rispetto agli anni di squalifia si prevedono la probabilità che cambi qualcosa la vedo molto difficile molto difficile Alessandro via a fine stagione e ovviamente si sta guardando il sostituto poi un altro tema importante Juve, occhi sul giovanissimo Azic vale 3-4 milioni di euro sempre interessata ai giovani, prospetti da far crescere come dimostrato la Next Gen la Juventus avrebbe messo gli occhi su Azic centrocampista Montenegrino classe 2006 che gioca in patria nel Buduknost Podgorica il ragazzo come riporta Gazzetta dello Sport vale tra i 3-4 milioni di euro e non è da escludere che presto giunto li possa piazzare la zampata però allo stesso tempo arriva una notizia brutta 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 ci riportano che la Juventus potrebbe cedere in prestito Dejan Huysen in vista della prossima stagione perché i bianconeri vogliono rinforzare il mercato in estate per il pacchetto difensivo da Dara Massimiliano Allegri e il centrale olandese potrebbe a quel punto andare a fare esperienza ad attitolare altrove beh, io su questo vi dico su questo non sono molto d'accordo questa mi sembra molto più una notizia ecco su questa mi voglio soffermare un po' di più una notizia per far, infatti esce dalla Gazzetta dello Sport per far mettere in luce una possibile riconferma di Allegri per la prossima stagione tanti ad oggi stanno pensando a questa eventualità io vi ripeto, io sono sempre lineare con le mie ipotesi credo che Allegri non possa più continuare la Juventus né in caso di vittoria né in caso di non vittoria dello Scudetto detto questo, i nomi che circolano i vari Huysen che può andare via e quegli altri giovani che possono andare in prestito eccetera eccetera, fanno pensare ovviamente a una permanenza del mister Toscano però io credo siano solo voci per cambiare l'opinione pubblica c'è un'opinione pubblica fino a qualche tempo fa un mesetto e mezzo fa era consapevole che Allegri dovesse andare via erano tutti convinti improvvisamente oggi sono tutti convinti dell'esatto contrario perché ovviamente c'è qualcuno che fa qualche video confermando che tutti quelli che pensano che Allegri vada via il prossimo anno sono degli stolti ecco vabbè io vi invito a non seguire certi soggetti poi se sapete da soli di chi si parla non c'è bisogno di ripeterlo perché non voglio poi incappare in dissing da una parte o da un'altra non voglio parlare di nessuno c'ho già tante cose a cui pensare nel mio di canale figuriamoci a quello degli altri però io vi posso dire che per come la so io per come la vedo io Massimiliano Allegri è l'ultimissimo anno l'ultimissimo anno poi ovviamente in base all'allenatore che verrà il prossimo anno si deciderà se puntare sui giovani ma credo che verrà preso che sia Conte o qualcun altro un giocatore che valorizzi i giovani perché comunque giuntoli all'inizio di un progetto che porta a valorizzare dei giovani calciatori dei prospetti che possono poi diventare futuri campioni quindi giocatori futuribili che tu puoi comprare a 5-10 milioni di euro e rivendere fra 2-3 anni a 30-50 milioni di euro ecco questo è quello che starebbe cercando di fare la Juventus congiuntoli e quindi non credo che prenderanno in considerazione un allenatore che non sappia gestire i giovani quindi Allegri in primis credo proprio che non rimarrà alla Juventus e non arriverà neanche quell'allenatore che ci si può immaginare un altro tipo di gestore tanti fanno i nomi tipo di Zidane o nomi comunque di allenatori che non hanno nulla a che vedere con un ringiovanimento della Rosa e una ripartenza da giocatori di poco conto a livello di fama quindi queste sono le notizie di oggi stasera ne parleremo in live alle 21 mi raccomando parleremo di tutto questo parleremo di Allegri parleremo del rinnovo di Fagioli parleremo del sostituto possibile di Alexandro perché ormai come sapete finirà il suo contratto la sua avventura alla Juventus con la fine naturale del contratto quindi a giugno sarà libero di andarsene dove vuole probabilmente negli Emirati Arabi scusate la mia dislessia momentanea oppure tornare in patria ora quello non so dipende se sceglie il cuore o se sceglie il portafoglio ultimamente abbiamo visto che il cuore non lo sceglie più nessuno scelgono tutti i portafogli comunque giustissimo ricordare ricordare anche che gli ascolti su Dazon sono diminuiti tanto ma che le persone che guardano di più Dazon sono i tifosi juventini quindi in parte diciamo sono soddisfatto sono soddisfatto perché la protesta delle disdette ha funzionato per una bella fetta perché abbiamo visto che hanno perso tanti di quegli incassi che non li possono neanche quantificare ma allo stesso tempo hanno disdetto molti meno juventini di quello che pensassi ovviamente ci sono quelli che dicono in giro io ho disdetto invece hanno 75 abbonamenti liberi di fare quello che vogliono è semplicemente però è brutto dire io ho disdetto per seguire un'onda quando poi non l'hai fatto o viceversa dire io non disdico e poi disdici fate quello che dite questo è un consiglio spassionato che vi do fino alla fine Forza Juve un saluto dal Gobbo Toscano ci vediamo stasera alle 21 in live ciao